musica bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi faremo un video dedicato a un kart sarebbe un kart 125 aspettate che lo prendo un kart racing 50 cavalli 125 shifter questo qua adesso ci faccio una gara allora comunque questo è già il kart personalizzato non direi di iniziare la gara a Grazie a tutti. 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 Mi avvicino sempre di più comunque. Grazie a tutti. Sbannito. Comunque dopo questo sarà l'ultimo giro. Penso che non riesco di arrivare al podio. Ah no. Ah beh allora a sto punto di concludere il video qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se in tal caso vi sia piaciuto mettete un like e un commento che io la maggior parte delle volte io leggo sempre tutti i commenti. Bella ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.